Contanti, te lo ricordi? Il taxi ci guarda e ci dice solo contanti perché era un vecchio di 70 anni che probabilmente mancava la partita IVA probabilmente e quindi vabbè solo contanti ma ancora iscritto in un radiotaxi, allora io guardo Omi e gli dico oh io non ho contanti eh e lui mi fa tranquillo bro sono a posto quindi vabbè Jody e Rubino già conoscono il format chi è che inizia? David, inizi sempre tu che David lui ha delle storie veramente incredibili da raccontare, si è quello degli aneddoti David, ma inizio io? Sì Ok, ok Allora, no 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 si ce l'ho Allora io praticamente stavo con la mia ex ragazza che non saluto perché non ho proprio ex vabbè è una pezza di merda falsa pezza di merda approfittatrice falsa fai schifo sei guidato in cuffia ma infatti no no come è andata ieri sera Jody? cos'è successo ieri sera? cosa avevo da fare ieri sera a casa? a casa? stai sicuro? ma ero a fare brother show love zi no dopo brother show love ma che cazzo esco io che c'è il coprifuoco? come c'è il coprifuoco? come c'è il coprifuoco? come sei rimasto? come siamo un villaggio? come siamo gli Zulu? non sono uscito perché? no niente curiosità assurdo assurdo vabbè vabbè niente c'è la mia ex ragazza pezza di merda approfittatrice ma grandissima mignotta va bene anche vabbè se volete vi do il numero di telefono no scherzo vabbè a un certo punto noi stiamo insieme da un po' viziata viziata era il momento più prolifico della mia vita no? c'era un po' dei sordini e lei mi aveva chiesto eramo andati in un negozio e mi aveva chiesto una borsa una borsa abbastanza costosa io ho detto guarda purtroppo non posso in questo momento e non la posso comprare e niente e lei mi ha messo il muso dicendomi guarda non faremo sesso per un po' di tempo perché non le hai comprato la borsa? esatto quindi pensate che intelligenza pura non faremo sesso un po' di tempo scusami a darino ok e un giorno non so perché stavo in macchina con lei lei doveva andare a fare una visita e io naturalmente ci siamo messi cioè ci siamo parcheggiati in un punto dico che era un punto abbastanza non nascosto però stava vicino alla strada e io mi sono fatto un bisteccone dentro la macchina cos'è un bisteccone? una sega perché non ce la facevo più però per sbaglio cioè non mi sono controllato e ho diciamo evacuato sul sulla macchina spero che non sia vera lo spero no hai evacuato dove? scusami dove? sulla macchina ma sulla macchina fuori o dentro? dentro? che fuori? stavo dentro alla macchina o dentro al radiatore no? un esibizionista no vabbè ma perché mi sono messo così tutto a capoacciato ma guardavo intorno aspetta 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 non so se ho raccontato è già no non è inutile che ci inganni con queste cose con piccoli tip sì sì aspetta forse forse ho già raccontato David ora sa veramente di grandissima puttanata sì vai cioè proprio mi odora proprio di minchiata però diciamo che anche una volta ho raccontato che ha preso a calci una persona per terra che era un tappeto però in realtà era una persona vabbè quello ho sbagliato pensavo che era un tappeto in realtà cioè mi hanno detto che era uno che godeva a me Roderculo ho preso a calci ma anche quella storia sembrava assurda però in realtà era vera quindi quella sì c'era pure flame c'è da dire che David ha delle storie veramente particolari però però secondo me secondo me è falsa ok se abbiamo qualche domanda da fare ovviamente possiamo farla anche se non lo so è talmente concisa come storia che non è che ha domande particolari tu Riccardo hai domande? ma la cioè la tua ragazza poi è venuta a conoscenza di sta cosa o no? quella stronza no perché ho pulito quindi è una cosa che non ha mai saputo no lo so adesso vabbè si cazzo la macchina che segue? non lo so la seguirà la tributerà penso però segue molto youtube lei ok già ho le tue domande ma è vera o falsa questa questa storia? è vera? giuralo su tutte le cose che ti dico no no questo non vale queste cose non vale no ma io rimango cazzo tra l'altro il sondaggio è veramente il pronostico in chat è veramente teso 7 milioni di punti cani su vera e 5 su falsa veramente veramente teso però io rimango della mia idea tra l'altro vince vince vera però io rimango sulla mia idea che sia falsa Riccardo? secondo me è falsa anche secondo me anche secondo me secondo voi è falsa? quindi è questa la vostra decisione? aspetta che stanno ancora pronosticando qua ok chiudete i pronostici chiudetevi tutti la chat vota 10 milioni su vera cioè per la chat è vera sta storiella ciao io mi inizio a fare qualche domanda in più su di te Rubino se fosse vera se è vera io non lo mi chiedo in live vai reputazione veramente aspettiamo che chiudano i pronostici aspetta modellatori chiudete i pronostici per favore gentilmente grazie mille molto gentili chiudete i pronostici vabbè però non è che me dovete giudicare per non poterci no no infatti hai ragione si si sei sborrato addosso in macchina ci sta capita nella vita di chiunque ma se non mi ha dato la prima borsa cioè poi va per chiedere la borsa e lui vittona vaffanculo comprate la da sola non è che costa due euro no no ma scusa posso fare ancora una domanda? sì cioè non ho capito una cosa tu sei andato in macchina subito dopo? subito dopo dove? cioè nel senso quando è successa quella cosa della borsa dopo quando sei andato in macchina? non ho capito questa cosa qua cioè questa cosa ti ha eccitato e sei andato in macchina a segarti no non è che mi hai eccitato è perché c'è c'ho voglia io non ce la facevo più e volevo farlo con lei perché comunque stavo bene con lei cioè mi piaceva capito? però è tutto spagato in questo modo va bene David puoi dire se è vero o falsa? ho detto una cosa posso dire se è vero o falsa? sì è falsa è completamente una cagata no però la pippa in macchina ma sono fatta veramente però in altre occasioni in altre occasioni mi piace che magari qualcuno passa io sono tutto là ma è vero anche che la tua ex è una stronza? quello è il pezzo più vero che esiste va bene quindi va bene era falso non è successa la roba della borsa c'è no un'altra storia vabbè però vabbè poi il futuro Jody vai allora questa è una storia del 2014 era un periodo in cui frequentavo Francesco Sole perché conta questa cosa qua praticamente c'è questo annetto in cui io mi ero trasferito praticamente a Roma perché lui stava facendo un programma televisivo la Roma e quindi molto spesso ero là per dargli una mano per delle cose di backstage e tutto quanto e mi ricordo che in quel periodo io ero sfidanzato e non so su Facebook si chattava con ragazze e tutto quanto ad un certo punto vedo che mi scrive questa ragazza che dalle foto mi sembrava molto carina e inizio a chattare con questa ragazza qua tranquillamente cosa fai? lei mi fa studio, faccio università qua, faccio università a Venezia però non ho whatsapp perché devo cambiare la sim cioè trovava il modo per non darmi il numero no? e continuare a chattare su Facebook solo su Facebook, nessun'altra cosa né snapchat né niente Facebook questa ragazza qua praticamente stava a Roma in quel periodo e quindi ho detto becchiamoci se ti va e fa eh ma guarda io in realtà sono fra Venezia, Roma e Milano ok quindi la cosa un po' mi puzzava però guardavo nelle foto profili e mi sembrava una vera perché le foto profili ritraevano sempre la stessa ragazza vedevo che c'erano dei post e tutto quanto eh cosa succede? a un certo punto ehm io la praticamente le dico vediamoci là e lei trova dice va bene poi all'ultimo mi pacca no? poi una volta l'ho pure paccata io eh l'ultima volta che ci siamo sentiti perché io le avevo anche proposto boh vieni a casa nostra vabbè delle robe un po' da marcio eh e a un certo punto lei io le faccio dai vediamoci a trastevere le faccio e lei mi fa guarda ti ci puoi anche affogare nel tevere così no? ok e da là non l'ho più sentita però quando è che viene la parte interessante? qualche settimana dopo mi scrive un notissimissimissimissimo youtuber ok? di cui non voglio dire il nome ma notissimissimo che mi fa ciao Jody ascolta ho visto che conosci questa tizia qua e gli faccio bah sì dimmi e gli fa ma perché hai avuto a che fare con questa ragazza qua e faccio guarda delle chat però non ci siamo mai beccati e lui mi fa ah ecco allora anche tu così perché a quanto pare lui mi ha raccontato che lui non l'aveva neanche lei neanche lui l'aveva mai vista questa ragazza che si erano dati appuntamento un giorno ok? in un posto della sua città che dico che è una terza città rispetto a Venezia Milano e Roma e lui praticamente era andato sul luogo però non era andato nell'esatto punto di incontro ma lontano per vedere questa tizia qua da lontano se era vera perché già non lo convinceva no? e praticamente ha detto che non ha visto quella ragazza nel punto di incontro e quindi a un certo punto ha iniziato a gostarla e quindi a quanto pare io e quest'altro ragazzo qua siamo stati vittima di un catfish incredibile e questo ragazzo qua è un non voglio dire noi perché più che altro non so neanche se in quel periodo fosse fidanzato o sfidanzato quello che è quindi non si sa mai anche per privacy però vi garantisco che è uno molto 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 famoso e quindi mi ha incuriosito questa cosa fine cerchiamola questa viva? non lo so c'è questo profilo di lei fa che fine fa? eh non mi ricordo io c'avrò ancora le conversazioni su messenger ma non mi ricordo neanche come si chiamava cioè è Favij lui no come no si lo youtuber o la ragazza? no la ragazza non penso sia Favij no 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 Favij è Favij no no perché cazzo sai perché sei di sicuro scusa perché ha raccontata però non facendo il nome dei Jody ah è vero forse sì aspetta forse la raccontata da qualche parte vero anch'io ho questo ricordo eh te lo dico ma cosa posso aver fatto ieri sera Edo cosa cazzo posso aver fatto vedi che hai fatto qualcosa ieri sera no non ho fatto niente ciao Edo no più che chiedi chiedi cosa fa domani sera cosa fai domani sera? niente perché vado a giocare a padel ma vai a cagare no non è vero avevo organizzato una cosa ma vado a giocare a padel sì sì c'è anche Riccardo Dose sì lo so buonasera mi conoscete? cioè di Ising no? no assolutamente no ci sono state delle cose ma niente delle cose ma chiarite in privato esatto esatto ok perché vedevo Riccardo un po' silenzioso mi ero un attimo spaventato no no stavo sì esatto basta è stato uno scambio d'opinioni ma poi boh ci sono scambiati due vocali in privato ed era finita lì la cosa bene 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 ma è importante chiarire no? è un pezzo di pane alla fine alla fine? alla fine alla fine Edoardo è un ragazzo è un pezzo di pane è vero è vero lo conosci con chi? è un bravissimo ragazzo è un bravissimo ragazzo è vero anche a Rocca ti siamo abbracciati tante volte ma sei mi rotto i coglioni che ti ho preso a sberli ma si vede che lo facevi senza esagerare perché mi vuoi bene anche a me fidati io l'ho abbracciato a Lugano ah vi siete abbracciati anche io l'ho abbracciato un po' di volte ma voglia eravamo a Lugano a bere una cosa non da soli quella sera a Rocket come si era conclusa? non credo so perdonami no tu come si è conclusa? penso di merda no allora ma per quanto mi riguarda bene dai divertente quella sera vogliamo andare nei dettagli? no non serve assolutamente anche perché sono dettagli che non fanno parte di questo mondo ah giusto ero lì con la mia compagnia di Lugano certo c'entrano il cazzo con l'internet vero 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 eri proprio con loro eri proprio con loro quindi è successo qualcosa? ci siamo divertiti una serata magica Ibo? ho fatto un tavolo per i miei amici ho offerto loro da bere ho offerto del divertimento dei miei amici e che hai fatto la sera? sono tornato a casa da solo? ma il cazzo te ne prego no vabbè voglio capir sono tornato a casa erano le 4 le 5 di mattina qualche cazzo di ora era no non è vero era prima è vero tu te ne sei andato da solo prima dove sei andato? siamo andati tutti insieme no io sono rimasto lì eravamo io e Andrea ma se ci siamo ribeccati lì dopo il ponte ma cosa cazzo stai dicendo? ah è vero è vero è vero con Romi che non capiva niente della realtà sì 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 veramente ecco appunto non sai dove è andato dopo? no sì sì io l'ho accompagnato sotto casa l'ho portato e ti racconto racconto un piccolo storytelling che vai vai dillo veramente fa troppo ridere è divertentissimo è veramente io poi arriviamo col vero falso ragazzi arriviamo oh mi ha tolto no è vera è vera pagate la cosa era vera era vera sì 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 vi racconto si ha raccontato pure il Favij vi racconto questa cosa con Ometor che mi ha messo tanto in difficoltà ma mi ha fatto troppo ridere praticamente quando stavamo aspettando il taxi tu tra l'altro ed hai vissuto proprio la situazione in cui è arrivato il taxi fa solo con tanti te lo ricordi? il taxi ci guarda e ci dice solo con tanti perché era un vecchio di 70 anni che probabilmente mancava la partita IVA probabilmente e quindi vabbè solo con tanti mancava riscritto in un radiotaxi allora io guardo guardo Omi e gli dico oh io non ho con tanti eh e lui mi fa tranquillo bro sono a posto va bene è proprio lui vado sulla fiducia no? allora saliamo sul taxi lui comincia a intortarmi con discorsi di cui non ho capito nulla perché era completamente fuori allora 27 euro di taxi comunque un viaggio bello lungo ah è vero tra l'altro lui alle 5 di mattina gli fa andiamo al MOBA figa ma si sta preparando all'apertura del giorno dopo allora gli ho detto no dai ti porta a casa è tranquillo poi vabbè siamo andati a prendere un kebab perché vabbè voleva sto cazzo di kebab comunque vabbè arriviamo a destinazione 27 euro del tassametro il signore giustamente si gira e fa sono 27 euro allora io guardo ovviamente guardo lui e dico guardo cercando o no una risposta che mi desse conforto ho metto il prendere il suo telefono enorme scarico e fa io pago con l'app non ci credo e lì ho detto no non ci credo allora ovviamente il tassista fa ma che cazzo stai dicendo e ho metto la cominciata a intortare un discorso facendo io ho letto i termini e le condizioni di free now e posso scegliere come pagare quindi lei in questo momento mi sta truffando io posso scegliere come pagare con questo telefono che c'era la batteria scarica così no io posso scegliere come pagare e io ho detto dai Andre ma che cazzo stai dicendo ma figa poverino questo qua allora alla fine poi ci siamo fermati a prelevare e abbiamo pagato questo taxi è stata un'avventura incredibile io veramente mi sono sentito incredibile cioè mi sono sentito potente in quel momento veramente veramente incredibile era bello bello distrutto quella sera e questa è la storia vera non c'è da dire vabbè chi ne vede era pura lui se se la ricorda se se la ricorda sicuramente eh ma ogni tanto c'è l'asta uscite eh sì ma lui ha delle uscite incredibili e dopo quando torni a Milano e i locali sono aperti cioè organizza quando ci sono anch'io cazzo ma organizziamo tutti una serata così parto pure io da Roma ho organizzato qualche giornata vabbè Riccardo vuoi raccontarla tu la storiella? sì ce l'ho dai ce l'ho vai 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 allora è un aneddoto riferito ad una delle mie ex ma tipo se ti parlo di anni anni fa ok dove praticamente questa persona l'ho mollata proprio perché capivo che era assillante sotto diversi punti di vista cioè mi pressava in continuazione fatto sta che nei mesi successivi mesi in cui non ero più fidanzato con lei che cosa succede? lei mi inizia a seguire dappertutto la trovo in giro per la portenone dove abitavo io la trovo fuori dalle mie aule di scuola cose del genere insomma arrivo a capodanno quindi dicembre io organizzo il mio capodanno e lei mi fa una domanda su whatsapp del tipo dove vai a capodanno io sapevo che in base a cosa aveva risposto lei in qualche modo avrebbe trovato una cosa da fare esattamente in quel posto capito? quindi io gli ho detto un posto che era un posto in montagna solo che lì non ci sarei mai andato era solo per sviare il fatto che ci sarei andato completamente da un'altra parte gli ho detto anche il nome esatto del locale e cosa succede che praticamente non so come lei va cioè arriva in contatto con una persona che lavora all'interno di questo posto una sorta di PR che organizzava proprio la serata di capodanno del locale esatto cioè il locale in realtà glielo ho detto gli ho detto il nome del locale che esiste veramente in quel posto che avrebbe fatto la serata di capodanno esatto esattamente giusto per essere più credibile se no magari mi inventavo un posto lei ovviamente non ci credeva era Zazza? cosa Zazza? no 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 ti parlo ti parlo di anni fa non lo conoscevo nemmeno ma poi che cazzo vuol dire era Zazza? cioè cosa ti cambia? a me me cambia ma magari cerco conferme che ne sai vabbè comunque fatto sta che non so come lei viene a contatto con questa persona che questa persona tra l'altro diceva di conoscermi e perché mi aveva tipo conosciuto in università quando andavo in università a Trieste e lei parlando con questa persona dice di di essere venuta a conoscenza che io avrei fatto serata là e tutto quanto quindi questa persona pensando che la questa ex mia ragazza fosse comunque in contatto con me e io gli dicesse esattamente cosa fare si mettono d'accordo su esattamente quante bottiglie avrei comprato durante quella serata durante la serata di Capodanno più o meno quanto avrei speso insomma in modo tale da avere di avere quel rifornimento di bottiglie esattamente per quella serata cosa succede? che io non mi sono mai ricato io non mi sono mai ricato in quel posto io non mi sono mai ricato in quel posto come vi ho detto prima perché era un posto cioè esistente ma fittizio nel mio caso e due giorni dopo Capodanno inizio a ricevere chiamate su chiamate da parte di queste persone tra cui il titolare del locale che mi minacciavano di voler necessariamente ricevere questi 1500 euro questi 1500 euro e niente io ho sentito all'inizio io non capivo che cazzo mi stavano chiedendo poi ho collegato tutto e sono venuto a conoscenza perché perché praticamente questa ragazza qua poi è passata anche in negozio da mia madre perché comunque conosceva mia madre e parlava di carte di credito che io non ho dato la mia carta di credito ho sempre questo po' cioè cose strane buttava un po' le cose a caso per cercarsi di giustificare dopo ho collegato tutto ho chiamato la mia ex l'ho insultata pesantemente gli ho detto migliaia di cose perché perché c'erano queste persone che mi cercavano per ricevere sostanzialmente questi soldi e alla fine hai pagato? non ho pagato perché ovviamente io poi sono riuscito a spiegare a queste persone come era andata e basta le bottiglie sono rimaste al locale io non ho non so se qualcuno abbia pagato al posto mio se lei poi magari ha pagato solo una parte di queste cose di cui ci eravamo messi d'accordo perché non c'erano solo delle bottiglie c'era anche una sorta di catering o una cosa del genere capito? ma che macchia proprio dovevi andare là e fare la serata della vita sì esatto praticamente non tu o loro esatto e basta questa storia è finita così dove io definitivamente poi dopo questo episodio ho tagliato i ponti con questa persona che mi ha dato solamente conferma di quello che avevo già pensato in precedenza ed era tra l'altro il motivo per il quale poi ci eravamo divisi insomma era stata una mia decisione questa micchia se è falsa veramente complimenti cioè elaborata in maniera particolare tu non potevi dirle tipo cioè faccio capodanno non so le Maldive sì potevo dirglielo ma nel senso io non avrei comunque mai pensato che fosse così psycho sì esatto non avrei mai pensato ma hai minimamente immaginato un epilogo del genere quindi glielo ho detta così perché poi c'è da dire una cosa il posto che che ho nominato era si chiama Piancavallo una località turistica vicino dove abitavo io e è il posto dove solitamente tutti di quelle zone vanno a fare il capodanno là quindi era anche più credibile come risposta anche perché al tempo per i torinesi sì esatto al tempo poi nel senso sì iniziavo a guadagnare i miei primi soldi ma nel senso non è che stavo come ora nel senso se gli dicevo ma live non era assolutamente credibile perché mi dicevi dove cazzo devo dire ostia ah vabbè ostia ma che cazzo cioè io da Pordenone avevo a fare il capodanno d'ostia vabbè a caso vabbè ho detto quella località lì perché non era la prima volta che avrei fatto capodanno lì l'ho fatto anche negli anni passati e quindi era molto più credibile come opzione ok ok Rubo hai domande? no mi sembra un po' tutto intrecciato poi lui ha scoperto è andato a ricollere allora Riccardo è molto bravo a parlare quindi secondo me pure inventaste cazzate allora ho la sensazione la mia più grande sensazione che questa storia sia o totalmente falsa o ha omesso qualcosa vuoi farmi farmi una domanda se pensi dire che io abbia omesso qualcosa proprio anche specifica se vuoi il profilo instagram di questa ragazza? no non lo conosco più ma scusa ma che cazzo di domanda è? ma poi al fine di capire se è vera o falsa ma che cazzo di informazione può essere? no lo vedi dal viso no ma io ragazzi scusa però Ricchi una cosa che non mi torna è tutti i locali che sono così attenti che non muovono neanche un dito se non ci sono di mezzo dei soldi anticipati questi solo per la chiamata di una tipa che dice lui spenderà 1500 euro si sono messi a ordinare l'acqua lunga è strana questa questa cosa allora ti capisco infatti pensavo che potesse essere un inni potete dire domanda che mi avevate posto però in quel caso tra virgolette siccome questo PR qui per risultare diciamo ai suoi capi titolari del locale una persona credibile diceva proprio di conoscermi bene e quindi lui era convintissimo di parlare con una con una persona in questo caso la mia ex che era in contagia eri Riccardo Dose sì cioè ero già Riccardo Dose ma era proprio i primi anni secondo anno terzo anno comunque nelle mie zone ero già conosciuto in Friuli comunque in quelle zone lì insomma Santin sì esatto Santin cosa hai tirato fuori ok tu Edo anche se non potresti vuoi perdere una domanda no quindi Giabi per risponderti era cioè questo PR aveva proprio dato la garanzia di conoscere si era sbilanciato proprio per dire tanto sì esatto ma anche per lui dico era molto cioè nel senso anche per lui era difficile capire che questa persona si stava inventando tutte queste cose capito certo certo cos'è che dicevi c'era anche Andrea Santina questo capodanno no no non c'era Andrea Santina no è Rubino che uscì ok ok io direi di andare alle votazioni secondo me hanno già votato secondo me è vera secondo me è falsa io voglio dire se posso è falsa secondo me pure è falsa quindi due falsa due vera no no tre falsi sono chiuse le pronostiche più o meno mezz'ora Riccardo è arrivato il momento di svelare se è vero o falso purtroppo ogni singolo dettaglio di questa storia è vera ho perso 50.000 punti vi aggiungo anche una cosa che è successa dopo però vabbè ve l'ho messo perché il film della storia non importava ovviamente questi creditori che cercavano me ad un certo punto quando hanno capito la situazione se la sono presa con lei e lei cosa ha fatto stando in viva voce con questa persona qui si era inventata tipo di aver perso la carta di credito o comunque di 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 risolvere la situazione con mia madre che non c'entrava un cazzo era proprio estranea questa situazione entrata all'interno del negozio di mia madre parlando di di questi soldi di questa carta di credito e mia madre non sapeva cosa rispondere ve lo giuro non sapeva cosa rispondere infatti poi ho collegato lei mi fa ma è stata questa persona qui in negozio ma che cazzo vuol dire perché era da un po' che poi non si vedevano non c'entrava un cazzo poi ho collegato tutto e lei era al telefono con queste persone della discoteca che in qualche modo cercavano di avere indietro questi questi soldi relativi alle mia madre è rimasta lì spiazzatissimo ok 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 è il mio momento è il mio momento di raccontare la mia storia le psicopatiche se le trovi eh chiudi allora come ti ho detto prima era proprio il motivo per il quale mi sono poi divido da questa persona infatti parlo di sette anni fa di più forse otto anni fa più o meno mentre io venivo catfishato insieme a Favij esatto va bene va bene vi racconto una storia molto particolare della mia vita nel periodo in cui facevo i video su youtube in cui andavo in giro a fare le mie cose è falsa vai in giro subito a fare i video in giro quando hai fatto i video in giro ho fatto i video in giro su youtube vateli pure a guardare e poi ti posso dare anche il nome del video vabbè ero in un periodo in cui ho passato quasi due anni della mia vita proprio frenzonato da una tipa per cui c'ero sotto di brutto nome e cognome è zazza non è zazza c'era anche santin c'era anche santin secondo me il dettaglio di zazza era fondamentale infatti vabbè ho stato frenzonato per due anni da questa tipa e c'ero proprio sotto di brutto e una volta avevamo un rapporto particolare nel senso che nel senso vabbè è un rapporto proprio classica freeanzo quella devastante dove la tipa sembra che voglia di più ma in realtà ti tiene come amico per sempre e allora che cosa succede in questa situazione a un certo punto noi ci vedavamo io pensavo che nel senso ci fosse qualcosa un giorno mi dice guarda mi sto sentendo con un ragazzo voglio fartelo vedere per sapere cosa ne pensi e io vedo in realtà all'inizio pensavo fosse una roba tipo per farmi ingelosire tanto ero preso dal momento e lei mi fa vedere sto ragazzo e poi mi fa vedere le chat e scopro che questo ragazzo effettivamente esiste cioè lei si sta effettivamente frequentando con questo ragazzo e allora capisco che impazzisco mi ricordo che ho quasi pianto per questa roba in realtà ho pianto anche e mi ero preso male non mentre c'era lei però ero tantissimo tantissimo mi ricordo ancora sul divano tanto è presente quando tipo litighi con i genitori che sbatti la porta sulla sulla porta di casa ecco io più o meno l'ho fatto così su di lei e su di lei hai fatto? no su con lei cioè in questo contesto su se è messo a piangere su di lei e allora che cosa succede? io faccio i video su youtube e una volta mentre ero in giro avevo conosciuto questa ragazza che ho appunto intervistato in un mio video ho conosciuto questa ragazza che il collegio sulla gente e ho conosciuto ero piccolo e allora avevo incontrato questa ragazza qua che dopo il video mi aveva detto mi aveva tirato un po' in mezzo e allora poi quando me ne sono andato le ho scritto le ho detto becchiamoci non me ne fregava un cazzo di questa lo volevo fare solo per poi fare delle storie che poi l'altra tipa vedeva grande gelosia eh? eh sì ma in realtà questa qua all'altra non gliene fregava un cazzo ovviamente perché ero nella frenza grande tattica e allora esco con questa qua di cui non me ne fregava un cazzo ho detto le dico appena arrivo le dico guarda faccio giusto le storie che devo fare poi le dico ho avuto un impegno e mi levo dai coglioni no? e allora appunto ci esco usciamo al parco semplice di Milano parla 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 me ne fregava un cazzo di quello che raccontava parla 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 e io comincio a fare le storie no? faccio le storie la taggo faccio proprio belle storie ti faccio anche un po' il provolone così metto le storie e nel momento in cui metto le storie le dico guarda adesso ho un impegno devo andare mi puoi accompagnare a casa? ho detto no guarda devo scappare ho un impegno un impegno incredibile e la tipa si incazza di brutto la tipa si incazza e mi incomincia a dire no ma perché ma siamo stati in giro poco ma cazzo ma perché ma perché non mi puoi portare a casa ma perché non mi porti a casa bla bla poi ha cominciato a tirare fuori la roba delle storie mi fa ma tu hai fatto le storie adesso devi togliere le storie io ho detto no no le storie non posso togliere aspetta perché poi la tipa non le aveva ancora visualizzate e quindi ho detto no aspetta no così fatto sta che l'ho accompagnata a casa così almeno non mi rompeva il cazzo l'ho accompagnata a casa e l'ho salutata tipo malissimo e non l'ho più rivista e questa qua i giorni dopo mi continuano a scrivergli l'ho tipo super gostata e e niente questa è la storia in atta abbastanza riflettere falsa però ok è vera no è falsa ciao siccome è vera ok aspetta aspetta chiuso i pronostici si punti buri va si 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 oh 48% 52% minchia posso dire se è vera o falsa si questa storia è al 100% vera adesso l'avevi già raccontato da Zano è stata una delle cose di cui mi sono pentito in vita mia perché è stato veramente uscire con una tipa solo per fare giocere un'altra veramente una puttanata enorme e infatti a me è piaciuto un botto per questa qua non fatelo ragazzi perché perché questa tipa qua insomma era super è una 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 weisen sin insomma interomma si insomma attra aspetta una attra attra Grazie a tutti.